Sì, sì, amici ludici scusate per il fiatone, per la barba da chiappa tesori e anche per il tempo di vuoto nelle comunicazioni, le cose che sembrano tutte saltare fuori sul canale Ma c'è qualcosa che ha occupato tutto lo spazio di tempo di questo mese e cioè, come vorrei vedere, il Pinerolo in gioco 2017 che si terrà in piazza del Duomo a Pinerolo domenica 1 ottobre Se volete venire a farvi una partita, quindi siete tutti invitati, ci sarà un bel po' di gentaglia, ci sarà ovviamente il sottoscritto, anzi se volete venire alle 6 potrete anche provare un gioco stupido e senza senso di improvvisazione Che mi sono costruito per tirare barcate con gli amici e compagnia, sono così stanco che ho fatto vedere la canina pur di non fare anche l'animazione o mettere l'immagine sul video E poi comunque una volta che sarà terminata questa cosa il primo ottobre riprenderanno i video, anzi dovrebbe esserci anche un po' più di ritmo Prima di tutto ci sarà i buoni escapoli con la nuova rubrica ProvaTux dove provo i giochi che mi manderanno forse altre volte chi lo fa mai le case direttamente a ca' perché io possa darne un giudizio Poi ci sarà ancora un video collaborazione, non con lui, per 500 iscritti, che ho visto sono 500 iscritti e anche di più, vi ringrazio già ma poi avremo modo di festeggiare nella maniera consueta e doverosa Ovvero con qualcosa di assolutamente privo di senso e che non potete immaginare che non c'entra anche nulla, c'entra anche parzialmente con il canale E poi vabbè classico video per Halloween se riesco senza decompormi e basta, quindi direi di chiuderla qua, ci vediamo per chi c'è a Pinerolo domenica 1 ottobre Non so, sto facendo anche da uomo sandwich Siccome non ho idea di come finire questo video dirò una parola a caso, anzi dirò due o tre parole a caso tipo cortina fumogena, sedia e asbesto Vale No, questo finale è solo così, per qualcuno che si aspetta che ci sia ancora qualcosa alla fine, mentre vi c'è